Sono Fabrizio Valdarnini, coordinatore della Commissione Sicurezza Cantieri dell'Ordine della Città Metropolitana di Venezia. La nostra commissione si occupa di dare un servizio agli iscritti, tipo rispondere a quesiti, posti, esprimendo pareri, organizzare o proporre corsi di formazione per raggiungere i crediti formativi. In particolare quest'anno ci siamo impegnati nel promuovere la cultura della sicurezza nell'ambito scolastico. Interessata è un istituto comprensivo di Jesolo, istituto d'annunzio e sono quattro classi prime che seguiranno un percorso che prevede una prima fase di formazione degli insegnanti da parte di tre ingegneri della Commissione Sicurezza Cantieri. A seguire poi verrà sviluppato da parte dei docenti il progetto in aula per finire poi verso giugno con un progetto finale che verrà presentato una manifestazione finale.